Acqua potabile sì, acqua potabile no a Pescara? Guarda, io abito in una zona un po' di periferia, se volete sapere la via ve lo dico subito, via Aldomoro, nelle cooperative. Io personalmente, da quando abito lì e da quando sono a Pescara, dal 1972, ho sempre usato l'acqua potabile del rubinetto e mi sono trovato sempre bene. Io la bevo, tranquillamente, spero che sia potabile. L'acqua a Pescara è sicura? Io spero di sì, ma da quello che vedo, leggo, vedo in televisione sembra di no. Assessore Di Carlo, facciamo un punto sulla situazione dell'acqua nella città di Pescara, è potabile oppure no? L'acqua è assolutamente potabile, si è verificato un piccolo episodio nei giorni scorsi, un episodio che è partito da queste fontanine pubbliche di Pescara, che abbiamo comunque risolto con interventi immediati da parte degli uffici del Comune, che hanno provveduto subito alla sanificazione delle fontanine. Da lì via via ho preteso un controllo anche nelle scuole limitrofe a queste fontanine e l'acqua invece si sta occupando dei campionamenti sulle utenze domestiche. Sicuramente non la bevo da tempo, quindi... Ma il suo punto di vista? Secondo me no, poi non lo so, molti non sono molto chiari su questa faccenda, però... Il mio punto di vista è che ci dobbiamo fidare per forza delle istituzioni, mi pare, questo è il discorso, no? Noi purtroppo abbiamo un cavillo che è quello legislativo, la legge prevede che i campionamenti debbano risultare allo 0,00% pulita, per cui una piccola carica batterica pari a 1, che quindi è vicino allo 0, fa sì che il sindaco debba emettere immediatamente un'ordinanza sindacale di non potabilità. Ma approfondendo la materia con gli uffici tecnici, ma anche con l'ASL e con l'ACA, ci spiegano che questa piccola carica batterica non è assolutamente pregiudizievole a danno della salute dei cittadini.